Benvenuti all'Università di Siena. Siamo gli alunni, la community di chi ha studiato a Siena e che oggi è inserita nel mondo del lavoro. Medici, avvocati, manager, start-upper, ricercatori, fisioterapisti, formatori. È una fase molto importante della vostra vita. State per scegliere e per iniziare il vostro percorso accademico. Siete fortunati però. Siete in una delle città più belle del mondo, in una delle università più antiche, ricca di eccellenze, grazie ai suoi docenti, alla qualità della didattica e della ricerca e al contatto continuo con la società. Tra le tante domande che vi state facendo in questo periodo, ci sono sicuramente quelle relative a quale lavoro, quale settore puntare, quali competenze e quali conoscenze sviluppare. Non sono domande semplici. Ci sono ricerche che dicono che l'80% dei lavori che farete nel 2030 oggi non esistono. Il mondo sta cambiando ad una velocità mai vista prima. Le nuove tecnologie, dall'automazione all'intelligenza artificiale, dai big data alla blockchain, dai droni all'automazione, stanno modificando il modo di lavorare. Sempre maggiore attenzione alle problematiche ambientali, agli obiettivi dell'agenda 2030 e alle tematiche sociali stanno generando nuovi lavori e nuovi settori. È difficile elencare i lavori che saranno richiesti nel futuro. Meno arduo è individuare quello che servirà per entrare con successo nel mondo del lavoro. Qualunque sarà il corso di laurea che sceglierete, ci sarà un lavoro per voi. Se in questi anni, in questo periodo accademico, saprete sfruttare le tante opportunità che l'Università di Siena offre. Lo sviluppo delle competenze trasversali, delle soft skills e delle competenze digitali, qualunque sarà il percorso accademico che seguirete, vi permetteranno di comprendere le opportunità e i bisogni del mondo del lavoro. I programmi di scambio internazionale, Erasmus e Overseas, vi permetteranno non solo di trascorrere un periodo di studio all'estero e di apprendere una o più lingue straniere, ma soprattutto di entrare in contatto con culture diverse e di sviluppare le competenze interculturali. I numerosi incontri organizzati dai dipartimenti, dall'Ateneo e dalle associazioni, per approfondire e discutere su tematiche attuali, vi permetteranno di sviluppare quel pensiero critico, oggi cruciale, per prendere decisioni. E ultima, ma non meno importante, la possibilità di partecipare, di far parte del network di chi studia e di chi ha studiato a Siena, una comunità che saprà supportarvi e indirizzarvi attraverso programmi strutturati di tutoring e di mentoring e condividere numerose opportunità di incontro. Ci auguriamo di trovarvi presto all'Università di Siena, vi aspettiamo, è in bocca al lupo!